Il conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia, torna sui social per fare una dolce dedica alla coppia dell'ultima edizione formata da Siria Pingo e Matteo Vitali, un bene infinito. Siria Pingo e Matteo Vitali sono stati tra i protagonisti più apprezzati dell'ultima stagione di Temptation Island, sia dentro che fuori il villaggio delle tentazioni. Anche l'amatissimo conduttore Filippo Bisciglia, nelle ultime ore, è tornato sui social e fatto una dolcissima dedica alla giovane coppia. Il dolce gesto di Filippo Bisciglia, reunion per Filippo Bisciglia e una delle coppie protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island. Nelle ultime ore, infatti, il conduttore del fortunato docu-reality delle tentazioni, che quest'anno ha segnato il record storico di ascolti, ha pubblicato sui social uno scatto insieme a Siria Pingo e Matteo Vitali. Dove siete? A massa, io a Forte dei Marmi. Ok, vi vengo ad abbracciare. Fatto, dolci, ha scritto Bisciglia pubblicando sulla sua pagina ufficiale Instagram una foto insieme alla coppia formata da Siria e Matteo. Scatto che è stato prontamente ricondiviso dai due protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island, un bene infinito. Segno evidente che tra loro c'è tanta stima e affetto. Siria Pingo e Matteo Vitali hanno deciso di partecipare a Temptation Island perché la 22enne voleva mettere alla prova il loro amore dopo un importante cambiamento personale. Durante il percorso nel villaggio, sono emerse tanti retroscena, ma anche tante mancanze di lui nel loro rapporto. Mancanze che sono state riconosciute e che hanno portato i due a lasciare il famoso falò di confronto insieme. Stando alle foto e i video che quotidianamente pubblicano sui social, pare proprio che Siria e Matteo abbiano ritrovato la loro armonia. Temptation Island torna a settembre. Cresce l'attesa per la seconda edizione di quest'anno di Temptation Island. Con il lancio del primo video promozionale è ricominciato il countdown per il docu reality delle tentazioni di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia, che riaprirà i battenti con inedito viaggio nei sentimenti a settembre 2024. Chi saranno le coppie che metteranno a dura prova il loro amore? Se la prima tornata, composta da Jenny e Tony, Siria e Matteo, Raul e Martina, Gaia e Luca, Vittoria e Alex, Alessia e Lino e Ludovica e Christian, è stata vincente, ci aspettiamo colpi di scena e grandi risultati anche da questa.